Yugi e tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi finalmente siamo qui con il secondo episodio della serie se indovini il prezzo lo compro ovviamente però ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio per l'acquisto di ragazzi ormai lo sapete fan con giochi di carte giochi da tavolo la droga non c'è però nel senso il resto lo trovate tutto trovate qualsiasi cosa volete inoltre se volete liberarvi di carte di yugi magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo facciamo rientrare a erenz e vediamo se a questo giro mi farà spendere più soldi bene a tutti ragazzi è un piacere di apparire sul cappello della sied ragazzi allora per chiunque non avesse visto il primo episodio vi rinfresco un attimo il regolamento adesso manderò a erenz 10 prodotti differenti di yugi ovviamente con il prezzo censurato non come lo sa da scorsa volta che uno è non era censurato e dovrà tentare di indovinare il loro prezzo di vendita nel caso riuscirà a indovinare ovviamente avendo tre euro di scarto sarò obbligato a spendere soldi e ovviamente fare l'acquisto ovviamente tutto quello che mi arriverà verrà fatto vedere in video o in live quindi non mancare detto questo iniziamo con il primo prodotto allora erenz partiamo con un prodotto relativamente molto economico tanto l'hai visto un po anche l'altra volta partiamo dalle robe meno costose alle robe che mi svuoteranno il portafoglio abbiamo quindi un pacco di sleeve con l'artwork di zeus ok allora l'artwork di zeus queste arrivano dalla precious collection qualcosa ho capito quale dall'utility box probabilmente generalmente da noi costano tipo 70 milioni di euro ste cose 20 25 io immagino che questo sia intorno ai 11 euro e 28 e na miseria quanto lo vuoi fa pagare un pacco di sleeve in giappone scusa queste sono un botto alla stregua di quelle di mamma costano 4 euro e 39 no sono meglio di quelle di mamma però nel senso appunto non lo so io quanto possono costare effettivamente i prezzi variano tantissimo quelle che mi piacciono a me costano 25 euro sì però nel senso devi tenere in considerazione il primo episodio cioè le pod me le hai sparate 17 euro erano 3 roleplay set ovviamente sono state ok va bene ma sono delle sleeve 11 euro ci potrebbe stare ma ma vabbè mi dispiace io parto bello contento perché ovviamente ho risparmiato dei soldi andiamo tranquillo tranquillo nel senso spenderemo più avanti o tranquillo sono contento per te che non hai speso soldi no spenderemo soldi più alti sono più felice di non aver beccato questa roba da 5 euro piuttosto che una roba da 300 sai che mi sa mi sa che c'è qualcosa da 300 ma staremo fantastico grazie per l'inter andiamo con il secondo prodotto questa qui è una chicca è la cassetta del dual master guide ovviamente non è sigillata ovviamente non ci sono i mazzi ovviamente non c'è il paladino da dmg secret che costa tipo 300 euro no 150 ok io pensavo fosse un'esclusiva nostra il paladino secret in inglese ma ok non lo so sai non ne ho la più pallida idea onestamente però è una videocassetta vecchia dell'anime vecchio di yugi non quello che noi conosciamo perché questo non è assolutamente quello che conosciamo noi probabilmente o forse sì non ne ho la più pallida idea secondo me sta cassetta può costare il set intero costa tanto una cassetta io penso un 15 euro sicuramente li può costare un 15 20 euro proviamo con 15 dai dici non ne hanno stampate così tante e quindi il prezzo comunque costa sì poi è una roba vintage alla fine perché questo è davvero vintage visto che c'ha più di 20 anni non come le bustine da 10 anni fa quindi sì per me 15 euro sarebbe un prezzo onesto è usata non è sigillata non può costare l'infinito ok allora secondo me tu ti stai tenendo troppo alto eh ma come fa a costare 3 euro e 30 eh è così quindi la compriamo comunque la compriamo comunque per 3 euro e 30 una cassetta con la yugi la compri comunque va bene va bene ma è perché oramai non esiste più il videoregistratore bisogna andare direttamente con lo streaming appunto non esiste l'ideoregistratore ti devi comprare l'apparecchio e una cassetta che costa 3 euro e 30 è estremamente poco per me soprattutto di yugi del 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 1999 perché sta roba del 99 come minimo e vabbè erenz sei una delusione io ero già convinto di portarmi a casa due bellissimi prodotti 20 prodotti che costano estremamente poco e mi illudi che siano cose fiche per me è una cassetta vecchia una cosa fica 15 euro io la vendo a 15 euro basta fine era un prodotto fico però lo svaluta andiamo con un'altra cosetta abbastanza interessante sono dei pack sealed della collaborazione tra konami e kokos praticamente all'interno possiamo trovare molte carte iconiche tra cui il polvere il mago nero neos con uno sfondo che fa palesemente schifo quindi ah lo sfondo con l'egitto ok si più o meno a me piace ok allora sono 14 pacchetti se non ricordo male quanto possono costare? un po' 9 euro e 50 visto che tutti i prodotti che mi stai mettendo sono così vabbè vabbè io beh non lo so no 9 euro e 50 no onestamente questo davvero penso che stia sui io dico 12 12? sono 14 pacchetti cioè tipo 77 pacchetto 25 25? si 25 potrebbe essere un euro 2 euro a pacchetto le promo da noi si vendono a 5 euro l'uno circa quindi potrebbe anche starci non lo so purtroppo sono prodotti che per me sono troppo esotici e generalmente non conosco minimamente a parte le singole e boh 2 euro a pacchetto vale se hai detto che le promo sono differenti ci sarà la promo che vale di più quindi tipo il polvere potrebbe costare di più esatto oh 25 si sicuro? confermo? conferma dai vediamo dai a sto giro è andata e dai 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 let's go ti ho fatto spendere dei soldi dei soldi vedi vedi? eri triste dei 3 euro e dei 5 euro e adesso li spendi 25 ma sai cos'è una cosa? io a questo giro sono stato furbo ho messo tutte robe che nel caso se mi compri vanno bene perché l'avrei comprate lo stesso quindi è pezzo di merda a me va benissimo va bene ok sono contento grazie fantastico siamo tutti molto felici allora adesso non la tocco piano eh iniziamo a tirare fuori qualcosa di molto molto interessante vediamo vediamo cosa ci tira fuori interessante signor cappello diciamo che ho trafficato un po' su bagli per cercare cose e questa questa mi confermi che conviene acquistare vediamo il poster promozionale dello structure deck di caiba volume 2 volume 1 no il volume 2 no il volume 2 aspetta sì è vero scusa allora io li conosco a memoria sti mazzi la mia madonna mia che quanti ricordi allora questi poster generalmente non stanno a poco sì non stanno a poco quindi è una cifra superiore sicura a quella del prodotto di prima perché il primo costa intorno ai 200-250 dollari questo almeno ne costa una settantina quindi vado sui 70 a 70 euro 70 euro fissi? tra i 70 e i 80 euro a 76 76? va bene questo non l'ho visto eh non me lo ricordo vedremo vedremo te l'ho inviato quant'è? 85 erenz a questo giro poteva stare bene lassù eh sopra il mio orologio con la cornicetta però sai non ti sei impegnato abbastanza cioè a volte 80 euro per una roba che è perfetta che ha palesemente 20 anni ci stava considera che quelli più nuovi giapponesi si vendono almeno a 30 euro sì però questo boh non c'è il drago bianco occhi blu c'è le carri armato di merda quindi oh una carta iconica c'è Kaiba davanti che è palesemente il personaggio preferito di Kazuki Takashi e lui lo ha affermato in un'intervista e allora niente 85 per me la cifra di 76 era corretta vabbè dai 76 pensavo dai che ci arriva 80 e avresti sbagliato comunque avrei detto più di 80 comunque però vabbè che poi è il prezzo più basso eh poi va sui 120 ottimo porca puttana sì 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 diciamo è quel genere di cosa che si fa pagare allora sai perché mi ero confuso tra volume 1 e volume 2 perché c'è un altro prodotto questo lo structure deck di Kaiba volume 1 con il drago bianco davanti pensa eh pensa io lo butto lì questo sta almeno a 150 almeno io non so niente io non almeno non voglio saperlo almeno a 150 cioè il drago bianco il mazzo di Kaiba è sealed sì è sealed 180 180 180 180 questa roba sì boh 183 boh 183 allora facciamo numeri a caso perché è divertente dire numeri a caso ho la netta sensazione che potresti averci beccato sono un prezzo stupidissimo tipo no hai sbagliato 162 ero convinto fosse 180 ero convinto anch'io fosse 180 non lo bella già c'era un buon prezzo eh sì ma ho preso tutti i prodotti con degli ottimi prezzi eh mamma mia sono un po' deluso quasi quasi vabbè valuteremo se acquistarlo comunque direi allora adesso ti tiro fuori una cosa strana una cosa che probabilmente non hai mai visto in vita tua e che probabilmente sì voglio che me lo indovini lo dico io voglio che me lo indovini può sembrare che io glielo abbia già detto ma in verità no abbiamo un prodotto cinese che è un sunto di carte meta tipo la rarity nostra mettiamola così è il mega pack 5 perché tipo adesso in cina hanno ufficializzato la cosa che si può giocare a yugi sì e quindi stanno facendo uscire tutte le staple una dietro l'altra esatto e ovviamente è un trattamento migliore che altri cg vabbè è insomma un box del genere contiene dei pack giganti perché sono pack giganti tendenzialmente stile quelli di pokemon con dentro di tutto e di più in copertina ci sono zeus una carta che non riconosco e la goddess box non so quante bustine ha non lo so penso un box come i nostri sì sembra o un box giapponese tipo quelli di pokemon con dentro a busto secondo me una cosa simile può andare in giro intorno boi quanto può costare un box nuovo per di più 100 euro considera che è un prodotto cinese non siamo in italia dove i box costano 80 euro sì appunto dovrebbe costare anche di meno in realtà 120 120 120 euro non ha senso che costi di più perché se deve essere accessibile a tutti contando la situazione economica cinese no 120 è un prezzo anche abbastanza troppo alto però boh io provo con 120 euro giusto perché è un sunto di tutte le carte quindi ci può stare è fatto cioè io ti potrei dire che sei fuori ma sei veramente fuori quanto costa sta roba essendo in cina questo prodotto costa 36 euro e 61 centesimi non siamo in italia è porco di quel cano cioè è questo che ti volevo far capire non siamo in italia che i box costano 80 euro siamo in cina ah boh 36 euro minchia sì è 61 centesimi è un po' triste ok sì sì sono un po' triste mi aspettavo che costasse di più non sto scherzando stavolta allora adesso andiamo nella top 4 dei miei prodotti preferiti non ti dirò che vorrei che li beccassi tutti e quattro ma poco ci manca sono prodotti che costano vabbè non prezzo inaccessibile però diciamo che qualcosina vengono partiamo con il primo è una carta incredibile esce dalla sesta espansione giapponese di Yugi ed è una ultima Zio cane questa l'ho vista ieri questa sta a un po' di soldi sendo in giappone 160 vado dritto così 160 sì potrebbe starci è una buona cifra sì 160 se tu la compri da ebay se la compri da ebay la paghi anche 200 ma bagli è più onesto ti dico questo ti do un'altra possibilità 85 mi dispiace Erens ci ho provato a darti un'altra possibilità perché la volevo costa 54 euro e 70 è pochissimo sì io l'ho vista su ebay ha tipo 300 non capisco esatto perché da noi non esiste semplice la cosa ed è bellissimo è fottutamente bello tutta incisa ragazzi non vi negherò il fatto che io sto piangendo perché Erens ha beccato un prodotto un po' di merda cioè li volevo però un po' così è una vita dai voglio darti un'altra possibilità con il terzo prodotto più incredibile della storia degli incredibili allora adesso spostiamoci verso l'era Zexal non so se ce l'hai presente non so se puoi anche avermi nominato cos'è si tratta di un prodotto che tutti i ragazzi che avevano 12 anni all'epoca avrebbero voluto all'epoca oh sì e che vogliono adesso lo so già lo so già cos'è lo sapevo il complete file bello con le carte nuove questo per me costa 170 euro perché ho visto che si aggirava intorno a quella cifra 160 180 generalmente così dal Giappone ovviamente a noi costa tipo infinitamente di più quindi ci credi veramente? cioè vai stai andando dritto sì sto andando dritto perché oggi oggi voglio andare abbastanza dritto su queste cose nel senso non ha senso che non ho nulla da qui di fretter ci sono prodotti che non conosco mi ricordo un pricing pseudo random perché non è roba che mi interessa effettivamente posso fare qualsiasi tipo di ragionamento ma se non lo so non lo so quindi secondo me non lo pagherei più di 200 euro ovvio come dire non lo pagherei più di 1000 non gli vale probabilmente 1000 quindi è un prodotto che sta che stava a 100 euro appena uscito mi pare l'equivalente di 100 euro 120 una roba simile sono passati un po' di anni quindi secondo me 170 180 euro 175 dai se costa di più troppo alto oggi oggi l'altra volta eri troppo basso a questo giro sei troppo alto viene a costare 154 euro e 87 centesimi allora 160 era giusto come cover angie di prezzo alla fine tra tutto lo viene a pagare più o meno sui 200 euro alla fin fine quindi sì è quello il punto sto piangendo ragazzi sto palesemente piangendo allora non ti negherò che adesso ti sto per mandare il prodotto più costoso ma non il mio preferito ok come minimo lo becco questo allora vediamo ti dico solo che vabbè penso quando dirò questa cosa tu capirai che prodotto è ci voglio fare un box break ne abbiamo già parlato di questo prodotto ok Bible of ice 1000 ice bible allora questo costa questo costa ma quanto costa? 360 euro questo sta tra i 350 e i 380 quindi se è un prezzo buono è 360 euro 360 euro 364,98 perché baici ha prezzi stupidi tu pensi che io me la rischi così tanto dopo l'altra volta? che me la so rischiato con 400 euro 2,89 è un prezzo buono ed è un box resealed no non è un box resealed spero non lo so lo scopriremo se 2,90 dai provo 2,90 così non mi tengo troppo alto però adesso sarò troppo basso perché sarà tipo 320 guarda te la butto lì ti do un'altra possibilità me la rischio la tua cifra è troppo alta qual è quella di 360? quale mia cifra? la tua cifra più bassa è troppo alta allora un box resealed perché non costa così poco è semplice la cosa non costa così poco ma manco in Giappone costano tutti così in Giappone 200 mi dispiace 2,10 e 88 era troppo alto allora zia avevi fatto 280 da 280 a 210 c'è un mare c'è una valanga in mezzo no è un 20% non è un mare leggermente più basso è un 20 è un 30% sì bene 200 dai 200 dai è un 21% più o meno 21-22 quindi non è tanto va bene va bene ok peccato toccherà saltare anche lui l'ultimo 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 me lo devi peccare l'ultimo io voglio che tu me lo vecchi perché non posso non averlo allora è una carta singola è già vista no non ovviamente subagli però è una carta che hai già visto e che ne abbiamo già parlato ok vedremo secondo me è molto bella e fa parte di una coppia l'altra non sono riuscito a trovarla ma ci sarà tempo per trovarla guarda un po' cosa ti ho trovato adesso mi fa ridere perché non mi sto scaricando l'immagine no mi guardo al telefono perché il telefono mi è arrivata vediamo ah ok però questa è la replica sì è quella che si dà ai side event ovviamente il budget non permetteva quella originale vabbè essendo una replica essendo quella da André 3 come premio e torna in Giappone boh questo è difficile però secondo me questa ci può arrivare tanto roba simile l'abbiamo già vista e l'ho già comprata le robe stanno da noi sui 200 euro tecnicamente sì però non ci sono venduti sul market quindi stanno di meno conseguenza questa roba costa tipo 90 euro non vedo come possa costare boh 110 al massimo però tra tutto quanto sì boh io penso sui 95 euro una roba simile 95? sì è un prezzo più che sensato 90 95 100 cambia perché c'è il range di 3 euro devi chiamene una specifica 95 95 95? sì e la tua risposta è ovviamente errata ovviamente impossibile beccarle oggi mi spiace questa era una semplicissima carta da 118 euro 118 dottor Bordigato di Teramo erens erens oggi niente non ti ho visto concentrato c'è stato un problema no sono tutti prodotti di merda per me nel senso perché dovrei comprarli a parte magari il box e la promo ma è tanta roba esotica è bella è interessante non lo so prodotti di merda sì ma contando che da noi dici oh e la pagano 400 milioni di euro non so quanto può stare in Giappone cioè boh non è roba nuova la roba che costa 118 euro per me non ha senso è una replica del cazzo cioè boh il Thousand Is Bible anche secondo me è troppo poco ah ok e però stanno tutti così quel bocco i bocci stanno così e va bene erens grazie mille per aver partecipato al secondo episodio è andato un po' una merda vabbè comprerò solo quei pacchetti bene ragazzi voi state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti grazie a tutti